La stagione è stata danneggiata dal maltempo. I vostri conti vengono fatti, immagino, sui mesi di luglio e agosto. Come sono andati? I nostri conti vengono fatti purtroppo su agosto perché luglio è stata una presenza in meno del 30-40%. Poi è passata all'estero e anche in Italia la voce che il mare di Ratico quest'anno era un mare di Malta, di fango e purtroppo poi ci hanno saltato. Questa stagione si sta prolungando? Si sta prolungando, proviamo a prolungarla, cerchiamo di recuperare sicuramente qualcosa a settembre e anche a ottobre se il tempo ce lo permette, dare un servizio a chi viene a visitarci fuori stagione, che fuori stagione potrebbe essere un settembre e anche un ottobre. Insomma cerchiamo di prolungare comunque la stagione in qualche modo, stringerla come vogliono tanti, come fanno tanti in due barra tre mesi è triste e non ce lo possiamo più permettere. Noi abbiamo deciso di tenere aperta la spiaggia e anche il servizio di ristorazione bar finché il sole ce lo permette, l'anno scorso abbiamo chiuso l'11 di novembre. Come si potrebbe promuovere questa cosa? Con eventi, spesso si fanno eventi in agosto e in luglio che poi non servono perché già la clientela c'è, insomma il turista c'è. Orientativamente potrebbe essere un'idea, anche se qui a Senigallia non avendo ancora uno storico di quello che può essere una balneazione nel periodo di ottobre, non saprei dire. Potrebbe essere un'idea, certo potrebbe essere un'idea, magari soprattutto per dei momenti in cui, per sopperire a dei particolari momenti anche di tempo brutto che sono stati soprattutto in inizio della stagione. La stagione deve finire con il tempo, non con una data fissa, non è una divisa, quindi se è bello anche ottobre perché chiudere, magari maggio piove. Sicuramente molto dipende dal meteo, come è ovvio che sia per settembre, ci aiuterebbe anche la comunicazione, comunque anche a livello regionale, la promozione degli eventi nelle varie città. Senigallia si sta muovendo bene sotto questo aspetto, sono già degli eventi anche per i primi di ottobre. Potrebbe essere una cosa positiva allungare la stagione? Personalmente arriviamo sempre alla fine di settembre con la stagione, cerchiamo sempre di garantire l'ombrellone con i lettini fino alla fine di settembre. I primi di ottobre è un periodo in là, almeno per la mia esperienza personale, però si può provare a proporre anche a chi viene da fuori.